Il Paradiso delle Signore, trama puntate, martedì 14 dicembre 2021. Gemma è rimasta sconvolta e senza parole davanti al nuovo presepe acquistato da Ezio. Stefania riesce a farsi confessare le vere ragioni di questa sorpresa e così ne parla con il padre per cercare di tirare un po' su il morale alla ragazza che non vive affatto bene il periodo festivo. Ludovica dice a Flora che dovrebbe dimenticare la questione che ha coinvolto Ravasi perché altrimenti rischia soltanto di inimicarsi i guarnieri e questo potrebbe diventare un problema per lei. Umberto intanto viene a sapere quali sono i progetti di Flora per le sue vacanze di Natale. La sedista intenzione di partire per l'America dove si era stabilita e rimanere lì fino alla fine delle festività. La cosa preoccupa un po' Umberto. Vittorio consiglia ad Agnese di non tenere nascosta una verità così forte a Salvatore soprattutto perché potrebbe cambiare la sua prospettiva sulle cose. Conti poi invita Tina a cena allo scopo di lasciare da soli Agnese e Salvatore perché possano finalmente confrontarsi. La sua speranza è che finalmente i due abbiano un modo di avere un chiarimento e che soprattutto la signora Amato trovi il coraggio di raccontare tutta la verità. infissi ... ... ... ... ...